A lei si trasmetterà un importante nodo quello delle autonomie. Lo faremo rispettando la Costituzione. Un attimo, fermo, fermo, fermo. Ministra, assisteremo a un governo litigioso come il precedente. Sarà un governo che pacificherà il Paese. Buona fede, buona fede. Sarà un governo che pacificherà il Paese, sarà un governo... Boccia un attimo, una foto insieme con Nuzia. Vicino, vicino. Un attimo. Un saluto, un saluto. Sì, andiamo venuti a stare vicinale. Sì, andiamo a venire. Anche a forzo. La rovo sguardo, la rovo sguardo. Prefetto.